bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xpuder e ragazzi oggi sono arrivate scusate ho la tosse è arrivata una novità per quanto riguarda il nuovo aggiornamento di rules of survival ragazzi lo stiamo vedendo già alle mie spalle siamo nel server quello in beta quello che possono usare solamente gli sviluppatori tra virgolette chiamiamoli così e la novità che voglio farvi vedere oggi è proprio relativa al nuovo nuovo per modo di dire diciamo a uno degli ultimi veicoli che sono stati aggiunti e si tratta proprio del deltaplano a motore lo stiamo vedendo adesso che fluttua libero nell'aria ragazzi che cosa gli hanno fatto come novità che cosa si potrà fare in realtà dal prossimo aggiornamento ciao vediamo se lo indovinate ciao ciao vediamo se lo indovinate lo sapete avete letto il titolo avete letto il titolo lo sapete sicuramente cronc guardalo qua guardalo qua ragazzi si può utilizzare dal 20 febbraio il minigun quello che è stato sotto dei rumori so che siano quello che è fittato sotto al nostro deltaplano a motore è una roba allucinante guarda guarda che roba guarda che roba adesso aspetta che bisogna trovare in giro la gente ma immagina quanti combattimenti aeree si possono fare facendo salire guarda guarda c'è lì un tipo c'è lì un tipo non riusciamo a prenderlo per un pelo quanti combattimenti aerei si possono fare con il deltaplano che spara fino a ieri fino all'altro ieri il minigun era solo di bellezza mentre con questo aggiornamento oltre a dis guarda 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 per un pelo per un pelo per un pelo oltre ad inserire in questo aggiornamento l'abbiamo già visto nel video un paio di giorni fa la nuova di un baggy con sopra la mitragliatrice abbiamo anche la mitragliatrice disponibile in questo velivolo a motore volevo farvi vedere volevo cercare di andare a prendere qualcuno porca miseria per capire un pochettino quanto possa togliere il minigun attenzione agli alberi attenzione agli alberi andiamo a incastrarci come dei piccioni ciechi ragazzi contro gli alberi aspetta un attimo che qua la ripartenza deve essere subito rifatta per farvi vedere proprio sul campo quanto fa male questo minigun secondo me a parer mio a parte che mi sembrava troppo una presa in giro aver montato il minigun sotto il deltaplano e non poterlo usare quindi cioè dici ma è un po' come la presa in giro che ci fanno questi qua della net is cioè ci hanno messo le torrette con le scale in verticale e porco giù dal personaggio non si può arrampicare sulle scale e allora cosa me le metti a fare cosa me le metti a fare allora aspettiamo un attimo che serviva un pochettino uscire dalla foresta prima di poter andare a riprendere quota qualche problema tecnico nella guida ragazzi vediamo se riusciamo no ancora non ce la si fa non ce la si fa dai sbrigas sbrigas è l'incastrato che non riesce a salire ok ok per qualche strano ambiguo motivo ci troviamo in volo dopo mezzo secondo dal nostro atterraggio ed eccoci di nuovo sul minigun ripuntiamo dritti avanti a noi alle centrali nucleari vediamo se riusciamo ad andare a hittare qualche giocatore col minigun ragazzi che figata è proprio come battlefield però dovrebbe esserci qualcuno qua in zona vediamo un pochettino se c'è qualcuno sto guardando in basso vedo solamente un loot cioè vedo solamente un pack lasciato da qualcuno attenzione guardalo vicino lo c'è spuglio 22 22 di danno su ogni singolo colpo ragazzi quello lì aveva l'armatura infatti avete visto che il numero 22 è diventato azzurro vuol dire che stavamo in realtà danneggiando l'armatura dell'avversario e non la salute ma ragazzi 22 per essere un un'arma che colpisce cioè da una distanza che io credo che il deltaplano quando uno è sul deltaplano o lo tiri giù sparandogli a nastro ma gli devi veramente sparare tanto o con un colpo di rpg perché ragazzi è impossibile se no fermare un deltaplano in volo e mi immagino solo visto che il deltaplano ragazzi ha cinque posti disponibili quindi tutto il team dovessimo giocare anche in un fire team potrebbe salire sul deltaplano basta solamente che due compagni di squadra abbiano le tanniche di benzina e voglio proprio vedere poi quando lo fermi questo deltaplano qua considerando che adesso può sparare ecco lì davanti la stiamo passando ragazzi la nuova di un bug e anche questa non vedo l'ora di andare a provarla insieme a voi ragazzi tanta tanta roba beh ragazzi questo era proprio un video brevissimo sul nuovo minigun che è disponibile adesso finalmente dall'aggiornamento del 20 febbraio io vi ringrazio scusate io vi ringrazio tantissimo ragazzi per avere guardato questo video se vi piace rules of survival e se volete sempre rimanere aggiornati su tutto quello che arriverà sulle prossime uscite sulle sugli eventi speciali su tutto quello che concerne mi raccomando di lasciare un bel like iscrivetevi al canale ragazzi e fate un salto anche sulla pagina facebook rules of survival ita noi ci vediamo presto ciao ciao